11 febbraio 1934, nasce Nery Quante, stilista inglese. Nel 1955 apre la sua prima boutique, il Bazar, a Londra, in Kings Road e raggiunge presto una discreta notorietà. Ma il successo travolgente arriva nel 1965, quando sull'onda dell'accorciamento delle gonne proposto da Courage, lancia la sua mini skirt, la minigonna appunto. Per il nome Mary Quante, si è istirata a un altro simbolo degli anni 60, la mini, cioè la vettura della casa automobilistica Austin. Il 13 gennaio 2009, la sua minigonna è stata celebrata in un francobollo molto glamour, messo in vendita dalla Royal Mail.